Grazie per la vostra presenza, questa sera vi presentiamo un nuovo quaderno dell'archivio storico di Biperbanca che si intitola oggi per domani breve storie dei risparmi. La pubblicazione che vi presentiamo raccoglie lo studio condotto da Chiara Pulini che è l'archivista e curatrice dell'archivio storico della banca e ripercorre circa 150 anni di storia e di documentazione che narra l'iniziativa e i progetti che da sempre Biperbanca ha proposto per promuovere il risparmio. Risparmio che è per la banca stessa uno dei valori fondamentali che continua a perseguire anche tutt'oggi, infatti è un tema che affonda le radici fin dall'origine stessa, abbiamo documentazione che risale al 1867 che testimonia l'impegno della banca a supporto appunto del risparmio, risparmio che ricordo la nostra Costituzione, l'articolo 47 sancisce come centrale per lo sviluppo e il benessere sociale. Dicevo tutt'oggi Biperbanca continua a portare avanti progetti di educazione finanziaria che testimonia proprio come il risparmio è stato un obiettivo primario fin dalle origini, fin dalla nostra Costituzione. La ricerca archivistica è poi inoltre arricchita da un caso di studio dedicato alla Cassa di risparmio di Vignola incorporata in Biperbanca nel 2010 che conservano importanti materiali che testimoniano il sostegno al risparmio soprattutto rivolto ai bambini e alle scuole. Io non mi dilungo oltre, lascerò la parola, interverranno per la presentazione del nuovo quaderno la dottoressa Giovanna Boggio Robutti, direttrice di Fedus, alla quale abbiamo affidato la prefazione del quaderno d'archivio. Seguirà poi Chiara Pulini, l'archivista e curatrice dell'archivio storico che ci condurrà attraverso il percorso condotto nella ricerca archivistica e concluderà la presentazione Giovanna Zacchi, responsabile ESG strategi di Biperbanca che ci porterà appunto, attualizzerà l'impegno di Biperbanca in quelli che sono i progetti attualmente in corso di educazione finanziaria. Lascio dunque la parola a Giovanna Boggio Robutti, direttrice di Fedus. Grazie. Buonasera a tutti intanto e grazie infinita Biper per l'invito, non solo a questa serata ma anche per questo prestigiosissimo, insomma, questa prestigiosissima possibilità di mettere un commento in apertura del quaderno sull'educazione finanziaria che è appunto quello di cui noi ci occupiamo, solo una parola per dire chi siamo noi, una fondazione che si occupa per missione statutaria esclusivamente di divulgare in Italia una cultura economica di base, quindi i principi di educazione finanziaria. Una fondazione che ha più o meno sei anni di età e che è stata voluta dall'ABI, quindi l'Associazione Bancaria Italiana e che è sostenuta non solo finanziariamente, anche finanziariamente, ma soprattutto con il lavoro e la collaborazione di tantissime banche italiane e siamo appunto stasera insieme a Biper Banca che è una sicuramente delle più attive, quindi una collaborazione molto bella e anche di lunga data quella che ci lega a Biper Banca. Il mio compito questa sera appunto è di fare una introduzione che sarà breve, spero però abbastanza completa sul perché l'educazione finanziaria sia una competenza che non possiamo più permetterci di non avere nel nostro bagaglio di cittadinanza. Iniziamo parlando di scelte, quindi questo è l'approccio che noi usiamo anche con le migliaia di ragazzi delle scuole che noi incontriamo ogni anno, in realtà ogni anno ne incontriamo decine di migliaia, ogni giorno ne incontriamo tantissimi e quando cerchiamo di raccontargli che cosa sia l'educazione finanziaria gli spieghiamo che è una questione di scelte, quindi di avvicinarsi razionalmente a delle scelte economiche che hanno a che fare con il denaro. Il denaro lo sappiamo è uno strumento diciamo indispensabile per il benessere, quindi un diritto che tutti i cittadini dovrebbero avere quello di imparare a utilizzarlo, che sia tanto, che sia poco, ma ancora di più se poco, in una maniera consapevole e informata. Ci sono moltissime ricerche nazionali e internazionali che rivelano come purtroppo in Italia il livello di competenza in temi di scelte economiche e finanziarie sia basso, sia sotto la sufficienza. Questo ci colloca naturalmente in una posizione abbastanza bassa anche tra i paesi diciamo più industrializzati del mondo con i quali noi diciamo ci confrontiamo abitualmente. Quindi è una situazione che va migliorata e ci sono moltissimi soggetti in Italia, pubblici e privati, moltissimi sono banche come vedremo dopo, che cercano di fare tutto il possibile nel loro piccolo o nel loro grande per aiutare gli italiani a abbattere un po' quella barriera di disinteresse che nasce in realtà dalla soggezione verso un argomento che viene ritenuto difficile, ostico da addetto ai lavori. Allora, come siamo messi oggi? Abbiamo visto che la situazione della cultura finanziaria degli italiani non è ottimale. Abbiamo avuto un periodo drammatico di crisi sanitaria che ha portato con sé un'enorme crisi economica e questo naturalmente ha portato grandi problemi e criticità ma come tutte le crisi ha portato anche un'opportunità per chi si occupa di educazione finanziaria ed è stato proprio il fatto che avendo più tempo soprattutto nei mesi del lockdown moltissime persone avendo più tempo e purtroppo anche meno entrate finanziarie, cosa che è successo a moltissimi italiani, si è dovuto per necessità occuparsi di più del proprio denaro. Noi stessi come fondazione siamo riusciti per la prima volta in vita nostra ad avviare una linea di webinar perché a questo punto in digitale ci ha consentito di entrare nelle case della gente che era chiusa in casa dal lockdown e quindi era disposta a passare qualche minuto a parlare di un argomento poco divertente come quello dell'educazione finanziaria però ecco ci ha consentito di arrivare a tante persone quindi di avviare delle linee di comunicazione attraverso webinar che non sono stati mai formali, sono sempre stati molto divulgativi proprio per cercare di portare questi temi difficili alle persone con delle modalità non troppo complesse quindi vi dicevo la scelta è stata proprio quella di ragionare su come la nostra mente ci fa prendere delle decisioni rispetto ai nostri soldi che dovrebbero essere razionali ma molto spesso troppo spesso non lo sono, sono invece guidati da altri tipi di motivazioni che spesso molto spesso ci fanno prendere delle decisioni sbagliate. Allora vi dicevo una nuova consapevolezza, moltissime attività che vengono fatte in Italia purtroppo in una maniera non ancora abbastanza sistematica, non ancora abbastanza continuativa e non ancora abbastanza capillare però si fa tanto, si fa tanto a partire dal Comitato Nazionale che è stato costituito direi ormai quattro anni fa dal governo proprio per cercare di coordinare tutte le attività, di dare una direzione, una strategia e naturalmente delle linee guida alle quali noi come Feduf ma anche i colleghi di Biperbanca si ispirano e si attengono rigorosamente proprio nell'andare a promuovere attività dirette a tutte le varie fasce della popolazione perché qui parliamo a tutti dagli adulti ai ragazzi ai bambini. Allora educazione finanziaria vi dicevo è qualche cosa che si deve sommare alle competenze di cittadinanza indispensabili se vogliamo essere dei cittadini consapevoli ma soprattutto dei cittadini in grado di far valere i propri diritti e uno dei diritti è proprio quello di scegliere come investire i propri soldi, come risparmiarli. È stato ricordato prima l'articolo 47 della Costituzione che sancisce il diritto al risparmio ma di questi tempi è davvero molto difficile risparmiare se non si ha un minimo di base perché purtroppo l'ambiente economico e finanziario diventa sempre più complesso, sempre più globale, sempre più veloce e è quindi necessario non diventare degli esperti, non è questo che vogliamo noi ma è necessario acquisire consapevolezza sulle proprie esigenze per poi scegliere nel modo migliore le strade e anche i consulenti a cui chiedere aiuto per compiere poi delle scelte finanziarie che siano davvero il più possibile ragionate ed efficaci. Allora l'educazione finanziaria in queste due parole racchiude un mondo di cose, un mondo di valori e sono quelli da cui noi partiamo. Il primo è proprio il valore del denaro, l'etica del denaro, guadagnare denaro richiede un processo faticoso che richiede tempo, il processo della spesa invece molto rapido, molto veloce e anche molto soddisfacente. C'è tutto il tema della legalità, c'è il tema dell'inclusione, c'è il tema della sostenibilità e poi vedremo che cosa intendo. Quindi due parole che si portano dietro. L'educazione finanziaria aiuta gli individui a relazionarsi meglio con i loro soldi e quindi a far scelte migliori ma in questo senso poi diventa un patrimonio comune perché tanti individui che fanno scelte migliori aiutano l'economia a funzionare meglio, a non avere dispersioni e a essere più efficiente. Ricordiamo che in questo periodo di pandemia moltissimi italiani sono stati in difficoltà ma moltissimi invece non potendo uscire e spendere hanno risparmiato tanti soldi. Sappiate che un'enorme quantità di questi soldi viene depositata sui conti correnti. Ecco il conto corrente è uno strumento che non si presta per essere un luogo di risparmio, è un luogo in cui gestire il denaro che entra e esce si deve muovere. Quindi queste ricchezze rimangono ferme nel posto diciamo meno indicato, dovrebbero invece essere messe a disposizione dei mercati attraverso le banche naturalmente per poter circolare e sostenere l'economia. Quindi questa è già una disfunzionalità, un qualcosa che non aiuta le persone che quindi naturalmente non possono trarre dei guadagni dai loro soldi che restano in qualche modo fermi ma non ne trae vantaggio neanche l'economia che vede un'enorme gigantesca quantità di euro che stanno fermi e non possono essere utilizzati. Quindi importantissima la consapevolezza, la competenza, la lungimiranza, la pianificazione finanziaria, tutte queste parole fanno parte dell'attività di chi si occupa di educazione finanziaria. I giovani, cerco di andare molto velocemente, sono una fascia estremamente fragile perché loro sanno molto poco naturalmente di gestione del denaro anche perché ne possiedono poco, però vi ricordo che ne possiedono già e vi ricordo che iniziano a possederne di solito già dalla più tenera età, quando perdono i dentini, quando gli si regala un salvadanaio e quindi mettono i pochi spiccioli in un luogo deputato a far crescere il denaro per un obiettivo, di solito è per comprarsi qualche cosa cui tengono. Ecco, razionalizzare in famiglia il processo del risparmio attraverso salvadanaio significa aiutare i nostri figli a familiarizzare con l'idea del processo di risparmio rivolto a un obiettivo lontano nel tempo, quindi di pianificazione finanziaria in senso più lato. Quindi questo si porta dietro, lo capirete, il tema spinosissimo della previdenza. Per i giovani questo è un grosso problema ma è anche una grossa opportunità se fin da giovani qualcuno gli spiega che dovranno cominciare a mettere da parte un piccolo capitale che crescerà molto nel tempo per effetto degli interessi composti. Tutte queste cose vanno spiegate perché i ragazzi non li sanno, i loro genitori non sono ancora stati diciamo formati per educare i figli in tema di economia e di finanza e quindi ecco perché c'è tanto bisogno di questo processo che appunto in tanti soggetti si cerca di portare avanti. C'è anche però un tema, abbiamo detto che adesso se ne parla un po' di più per fortuna ma molto spesso si tende a dire vabbè non è qualcosa che riguarda me, ci penserà qualcun altro, ci penserà lo Stato, ci penserà il governo, ci penserà la scuola. Ecco l'educazione finanziaria è una forma di cultura di cittadinanza che deve essere costruita da tutti perché capirete che è difficile che un solo soggetto riesca a portare presso 60 milioni di italiani più o meno una nuova cultura. Ci vorrà un tempo molto lungo così come è stato impiegato per dotare gli italiani di una cultura alimentare adeguata moltissimi anni fa o di aumentare la cultura della tutela della prevenzione della salute. Quindi ci siamo arrivati ma come tutte le forme di cultura ci vorrà tanto tempo e ci vorranno tanti sforzi. Quindi è bene che ci lavoriamo tutti insieme. L'alleanza tra Biperbanca e la nostra fondazione è proprio un esempio di network che funziona molto bene. Biperbanca ha una grande rete, ha una grande volontà e ha delle persone meravigliose al suo interno che si prestano a fare un'attività in qualche modo volontariale presso le scuole, presso gli adulti dove cerchiamo insieme di portare tanti contenuti indispensabili. Quindi vi dicevo le nuove generazioni ma anche le donne, le ragazze che purtroppo tutte le ricerche ci dicono essere tagliate fuori ancora in maniera molto grave dalla logica della gestione economica della famiglia con casi estremi di violenza economica quindi di donne che sono ostaggio dei loro compagni perché non hanno modo di gestire magari le loro risorse finanziarie, di giovani figlie che vengono cresciute in famiglie in cui si dice ma tu non ti preoccupare tanto di queste cose si occuperà tuo marito. Ecco tutte queste logiche che derivano da una cultura se volete insomma tipicamente italiana non solo italiana devono cambiare e c'è molto lavoro da fare si sta facendo tanto lavoro noi abbiamo presentato proprio quest'anno alle scuole col nuovo anno scolastico un programma molto carino che cerca di parlare già ai bambini delle primarie maschi e femmine insieme di quanti stereotipi e di quante anche ingiustizie si nascondano dietro a questa poca confidenza delle donne con la sfida economica della loro vita quindi questa è un'area di grandissima rilevanza come lo è quella che guarda le fasce deboli della popolazione le fasce in situazioni di difficoltà economica. Io vado velocissimamente a chiudere per dirvi che a scuola si fa tanto grazie al cielo dall'anno scorso ci sono 30 ore un po' di più di educazione civica obbligatoria in tutti i gradi scolastici e questo ha consentito di portare anche le competenze economiche di base verso i nostri ragazzi però vi dicevo questa non è una tema curricolare quindi ricava degli spazi diciamo sul buon cuore degli insegnanti più che altro la loro sensibilità ma c'è tanto tanto da fare di più quello che vi voglio lasciare come messaggio finale proprio la necessità appunto di fare insieme insieme si fa molto di più facendo singolarmente si fanno forse tante buone cose ma si disperdono anche tante energie quello che io vorrei fare è proprio seminare insieme tanti semini e vederli poi crescere però essere anche in grado di seguirli annaffiandoli in modo che possano crescere bene e robusti e dare dei semi che sono appunto i nostri giovani che hanno diritto di fiorire e di vivere una vita splendida ma che hanno bisogno adesso del nostro aiuto e soprattutto appunto di una consapevolezza e delle competenze sul tema della gestione del denaro che purtroppo ancora non hanno io vi ringrazio mi fermo qui lascio la parola a questo punto a chiara pulini che è già stata presentata che entrerà invece nel merito della ricerca archivistica grazie grazie prima di cominciare a illustrarvi il quaderno vorrei ricordare che anche quest'anno la presentazione di questo lavoro si colloca nell'ambito delle iniziative promosse da confindustria in collaborazione con musei impresa in occasione della settimana della cultura di impresa quest'anno è un anno particolare perché ricorre il ventennale della settimana della cultura di impresa e il tema scelto si intitola il gran tour tra i valori dell'italia intraprendente per permettere lo svolgimento di un ricco e articolato programma di iniziative ah non si vede scusate come è possibile mi dicono che non si vede mi sono interrotta scusate ma mi sembra che sia tutto a posto datemi conferma che funziona no ma non adesso devo condividere le immagini devo partire ancora stavo facendo una presentazione poi parto con la condivisione delle immagini un attimo solo e arrivo dicevo per permettere lo svolgimento di un ricco e articolato programma di iniziative alla scoperta dell'immenso patrimonio culturale custodito nei musei e negli archivi di grandi, medie e piccole imprese italiane il periodo degli eventi della settimana della cultura di impresa quest'anno non si limita a una sola settimana ma è stato eccezionalmente esteso da luglio a dicembre adesso passo alla presentazione del quaderno e condivido le immagini ditemi se è tutto a posto se le vedete ok passo ora a presentarvi il nostro nuovo lavoro il quaderno intitolato Oggi per domani breve storia del risparmio e prendo spunto proprio dal titolo del quaderno in particolare dalle prime tre parole Oggi per domani per cogliere il collegamento fra questa frase e il campo semantico del termine risparmio il termine risparmio è un termine complesso per diversi motivi può essere usato con lo stesso significato in ambiti diversi ha implicita una connotazione temporale ed è carico di valenze etiche il concetto del risparmiare si può applicare in ambito sociale in ambito ambientale in ambito finanziario e in ognuno di questi campi esprime un'attività che proietta nel futuro i risultati delle nostre azioni di quali azioni parliamo? sono tutte azioni di contenimento dei consumi e degli sprechi in qualsiasi senso le consideriamo in questo modo stabiliamo una connessione stretta tra il risparmio inteso in tutte le sue accezioni e l'aspirazione a uno sviluppo sostenibile nel caso particolare della sostenibilità finanziaria significa ristabilire un sano rapporto tra etica e finanza ripartendo da una gestione del risparmio che escluda scelte esclusivamente speculative e di breve termine occorre tenere presente che la propensione al risparmio è insita nella natura stessa dell'uomo e se anticamente si esprimeva in un risparmio per necessità al fine di garantire la stessa esistenza umana in tempi più recenti il risparmio comincia ad essere inteso come una vera e propria opportunità a seguito delle rivoluzioni industriali del XIX secolo aumenta la necessità di disponibilità di capitali che permettano di investire in beni strumentali utili al rafforzamento e al buon funzionamento di un'azienda l'immagine che vi propongo è l'immagine di un'azienda dei primi del Novecento di un cotonificio esattamente dove si ha la netta sensazione del lavoro delle macchine che pian piano sostituisce il lavoro dell'uomo e le banche in questo momento storico assumono un ruolo fondamentale di intermediazione fra risparmiatori e investitori e per la prima volta nuove categorie di clienti si affacciano sulla scena del mercato economico grazie alle aumentate possibilità di lavoro offerte da piccole, medie e grandi attività industriali e artigianali a Modena si tratta soprattutto di piccole e medie attività ovviamente in quest'epoca la Banca Popolare di Modena viene fondata nel 1867 per assicurare e promuovere il risparmio e sostenere la diffusione del credito popolare l'immagine che vi propongo riprende lo statuto della Banca Popolare di Modena il primo statuto del 1869 e leggiamo all'articolo 2 che la banca ha per il scopo di procacciare il credito ai suoi azionisti col mezzo della mutualità e del risparmio la banca quindi stimola il risparmio previdente dei lavoratori e ha l'obiettivo di sostenere con i capitali necessari lo spirito imprenditoriale l'elevata adesione da parte del ceto produttivo modenese al progetto istitutivo della banca dimostra la fiducia riposta dai modenesi nella Banca Popolare di Modena le cui azioni e qui vedete due esemplari di cedole azionarie di seconda categoria da lire 50 una del 1870 e una del 1909 le azioni dicevo sono viste come una sicura opzione di risparmio anche per i piccoli investitori incluse le donne e questo è interessante sottolinearlo donne che diventando azioniste si garantiscono un futuro meno incerto tramite la costituzione di una dote garantita tutelata diciamo l'altra sicura modalità di risparmio è senz'altro quella offerta dai libretti di risparmio o libretti di deposito di cui qui vedete alcuni esempi i modenesi affidano i loro risparmi alla banca in un periodo in cui non esistono molte forme di tutela il deposito bancario è uno strumento finanziario utile per custodire il denaro garantito da un libretto cartaceo consegnato al titolare e in questo momento si intuisce l'utilità dello strumento anche per l'istituto bancario depositario il ricco patrimonio documentario dell'archivio storico di Biperbanca costituisce oggi una testimonianza del lavoro svolto dalla banca per più di un secolo e mezzo e ci racconta l'evoluzione degli strumenti finanziari adottati nel tempo la consistente presenza almeno fino agli anni 70 del secolo scorso di serie documentarie come quelle dei giornali e dei partitari dei depositi ci mostra una società di risparmiatori attenti soprattutto alla sicurezza dei capitali che depositano presso la banca che affidano la banca qui vedete rappresentato un partitario dei depositi a piccolo risparmio ed è denominato questo registro partitario perché ogni pagina corrisponde a una scheda detta partita intestata a un singolo nominativo la funzione dei depositi a piccolo risparmio era quella di incentivare il risparmio monetario dei singoli individui in particolare nelle categorie meno abbienti e nei giovani grazie alla possibilità di importi minimi di deposito e a tasse di interesse più vantaggiosi rispetto a quelli del risparmio ordinario con l'affermazione del fascismo la tutela del risparmio assume un nuovo e importante rilievo e diventa un pilastro della nuova politica economica governativa nel 1924 a seguito di un congresso che si tiene a Milano voluto da Cariplo viene istituita la giornata mondiale del risparmio la cui ricorrenza cade il 31 ottobre allo scopo si legge fra le righe del testo redatto in occasione di questo congresso allo scopo di promuovere il risparmio come disciplina fondamentale per la comunità per un uso migliore individuale e sociale della ricchezza da apprendere fin dai livelli scolastici primari la banca popolare partecipa con iniziative personalizzate di cui potete vedere alcuni esempi come nel caso del manifesto del 1940 o nel caso degli omaggi che venivano distribuiti alle scuole con messaggi che dovevano indurre gli scolari al risparmio e a fare richiesta di una cassettina salvadanaio alla banca popolare di Modena cassettine che potete vedere in questa immagine che cominciano ad essere prodotte nel 1939 sono salvadanai metallici intestati alla banca e numerati in successione progressiva da uno in Italia la ricorrenza della giornata del risparmio assume fin da subito una dimensione rilevante anche per il ruolo strategico giocato dalle banche a sostegno dell'economia del territorio in particolare delle casse di risparmio a questo proposito abbiamo avuto la fortuna di poterci avvalere del ricco patrimonio documentario conservato dalla ex cassa di risparmio di Vignola la CRV per proporre un approfondimento delle tematiche del risparmio durante il ventennio fascista il patrimonio archivistico della ex CRV era stato acquisito da Biperbanca nel 2010 a seguito della fusione per incorporazione della banca e nel 2013 l'archivio viene donato alla fondazione di Vignola nel rispetto della territorialità delle carte ed ora si trova conservato presso il polo archivistico dell'Unione Terre di Castelli questo approfondimento o caso di studio come l'abbiamo chiamato è stato realizzato dalle archiviste Angelica Barberini e Margherita Beggi la prima immagine che vi propongo della documentazione della ex CRV è questo manifesto di grandi dimensioni da cui come avrete forse già intuito è stata tratto è stata tratta l'immagine della bambina che abbiamo proposto come copertina del nostro quaderno bambina che tiene in mano il salvadanaio di Coccio destinato ad entrare nell'immaginario collettivo come simbolo universale del risparmio vi propongo alcune altre immagini dell'immenso patrimonio documentario della CRV proprio su questo particolare argomento abbiamo veramente avuto l'imbarazzo della scelta perché per la ricchezza della documentazione conservata soprattutto degli laborati scolastici e manifesti dei volantini quindi veramente tantissimo tantissima documentazione molto interessante in questo volantino si legge ricordate il 31 ottobre richiedete a tempo il salvadenaio in questo caso si tratta del salvadenaio metallico di forma più squadrata in sostituzione di quello più antico diciamo di Coccio e poi seguono alcuni esempi di quaderni ed elaborati come questo che era stato donato era un omaggio della cassa di risparmio di Vignola il primo che vedete e poi questi elaborati degli scolari delle scuole di Vignola e del circondario di Vignola come questo testo di uno scolario di seconda classe di Spilamberto dove vengono riportate frasi sempre rivolte al risparmio un'unica un'unica altra segnalazione una curiosità abbiamo ritrovato nella documentazione della ex CRV anche alcuni spartiti musicali di inni al risparmio proprio servivano per educare gli studenti fin da piccoli al risparmio appunto col dopoguerra la centralità del risparmio nell'ambito dello sviluppo economico sociale italiano viene ribadita come già stato detto dall'articolo 47 della Costituzione in cui si dice che la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme negli anni della ricostruzione a Modena come si può leggere nelle relazioni del Consiglio d'amministrazione della Banca Popolare la larga disponibilità di capitali liquidi comporta l'accrescimento dei depositi bancari ciò che colpisce è la limitata comunicazione sui temi del risparmio in particolare nei confronti delle scuole soprattutto è evidente il forte contrasto con le campagne martellanti attivate precedentemente in epoca fascista questo però non significa che la promozione del risparmio si sia fermata l'assenza di testimonianze dirette sulle misure adottate dalla banca per la promozione del risparmio nel lunghissimo periodo che va dagli anni 50 fino alla fine degli anni 70 non rappresenta comunque l'abbandono di un valore che accompagna da sempre la banca popolare semplicemente ora il risparmio è inteso come un'abitudine consolidata a cui la banca e la clientela possono fare il riferimento senza l'esigenza di lanciare campagne pubblicitarie apposite complice la favorevole contingenza del miracolo economico italiano che contribuisce a un ritorno alla formazione del risparmio anche da parte dei ceti meno abbienti la giornata del risparmio continua ad essere celebrata ogni 31 ottobre nelle scuole e la banca distribuisce omaggi educativi come i salvadenai come potete vedere in questa immagine oppure collane di pubblicazioni sulla natura sulla pittura o sulla scultura come questa che vi propongo della pittura pompeiana che nel retro di copertina riporta sempre dei messaggi educativi sul risparmio come ho già detto il generale miglioramento economico delle famiglie italiane nel secondo dopoguerra comporta una maggiore capacità di risparmio ma soprattutto fa nascere l'esigenza di diversificare gli investimenti qui ho riportato l'immagine di un cavo che è il cavo della sede della banca popolare di modena proprio per dare l'idea della stabilità di quelli che erano i depositi bancari nei confronti di quelli che saranno poi successivamente invece gli investimenti infatti il risparmiatore comincia a non accontentarsi più del libretto di risparmio ma vuole investire in attività finanziarie più strutturate si passa dal così dal semplice risparmio all'investimento negli anni 80 nascono i fondi comuni di investimento e le forme di risparmio assistito e le banche offrono ai risparmiatori una gamma sempre più vasta di prodotti finanziari qui potete vedere un volantino dei fondi di investimento Arca e una pubblicità del cosiddetto risparmio famiglia dove si cerca di venire in conto diciamo delle clientele classificati in base o all'attività o all'età e quindi la comunicazione viene tarata su queste nuove esigenze e si sente in generale per la prima volta il bisogno di sensibilizzare e di educare la cittadinanza sulle tematiche finanziarie le iniziative partono dall'alto a livello nazionale e l'ABI associazione bancaria italiana nel 1983 pubblica alcuni opuscoli intitolati Io e la Banca illustrati dal noto vignettista Giorgio Forattini che vogliono cercano di spiegare in modo semplice diretto e divertente le principali attività svolte da un istituto di credito con gli anni 80 si assiste a un cambiamento comunicativo nell'approccio alla clientela e i giovani per la prima volta sono visti come un interessante e significativo settore di riferimento del mercato delle banche per vari motivi da quello più eticamente educativo ed investimento a lungo termine a quello più immediatamente remunerativo di attrazione delle famiglie attraverso la familiarizzazione dei giovani ai servizi bancari qui potete vedere alcune immagini di prodotti di servizi pensati proprio per i giovani e nel 1986 la Banca Popolare inventa la nuova formula risparmio jeans per i giovani fra gli 8 e i 18 anni è evidente l'intento pedagogico del nuovo libretto che vuole portare ad una gestione ad un'amministrazione autonoma e responsabile dei propri risparmi da parte dei giovani negli anni 90 vengono proposti nuovi prodotti destinati sempre ai giovani clienti come il conto Under 18 il conto Volere Volare che ha come testimonial un attore a quell'epoca famosa attore-regista Maurizio Nichetti e il conto 44 gatti i legami della banca con le scuole si in quest'epoca dagli anni 90 diciamo in poi si intensificano e rafforzano in questo periodo attraverso la creazione di percorsi educativi e con la proposta di concorsi di disegno sui temi legati alla propria città e alla sostenibilità ambientale come nel caso del concorso promosso dal conto 44 gatti alle scuole modenesi verso la metà degli anni 90 in questi disegni troviamo i germogli di un percorso che nell'arco di 20 anni porterà a caricare dialenze positive il significato del termine risparmio a quasi un secolo dalla sua istituzione la giornata del risparmio continua ad essere celebrata il 31 ottobre di ogni anno e dal 2018 la giornata si pone a conclusione del mese dell'educazione finanziaria durante il quale il tema del risparmio mantiene salda la sua centralità ormai svingolato da un'interpretazione esclusivamente economica e finanziaria e sempre più associato al mondo di valori che ruotano intorno al concetto di sostenibilità io a questo punto mi fermo e ho concluso quindi vi ringrazio e passo ora la parola a Giovanna Zacchi Buonasera a tutti grazie a tutti per aver partecipato a questo evento io adesso condividerò qualche slide per raccontarvi quello che sta facendo la banca attualmente nell'ambito dell'educazione finanziaria chiedo conferma che si vedano le slide bene allora procedo ok molto molto velocemente come vi dicevo sono qui per raccontarvi l'impegno attuale di Piper Banca nel settore dell'educazione finanziaria che è sempre un'attività strategica perché perché chi ha maggiore conoscenza finanziaria come ci dice la strategia nazionale del comitato per l'educazione finanziaria pianifica meglio il proprio futuro è anche un cliente più attento un cliente più competente risparmia di più investe meglio i propri risparmi si indebita meno e gestisce meglio il proprio debito ma per noi l'educazione finanziaria è anche un obiettivo di sostenibilità e infatti rendicontiamo iperbanca da sempre rendi conto alle proprie attività seguendo sustainable development goals cioè gli obiettivi di sostenibilità dell'agenda 20-30 dell'ONU e le attività di educazione finanziaria sono proprio rendicontate all'interno dell'obiettivo 4 fornire un'educazione di qualità equa ed inclusive opportunità di apprendimento per tutti noi come già anticipato da Giovanna Boggio Rubutti collaboriamo da tempo anche con Feduf e vedremo poi con che modalità ecco con una serie di immagini vediamo un pochino come biperbanca è a fianco di ragazzi di ogni scuola di ordine grado partiamo dai più piccolini col progetto Tarabaralla il tesoro del bruco baronessa quella che vedete è la copertina del libro del libro illustrato Tarabaralla è un progetto che ci ha permesso di attraverso eventi con le famiglie ma anche con eventi più ampi insomma che andavano dalla filiale al teatro abbiamo fatto più di 50 incontri in due anni in 15 regioni italiane abbiamo incontrato 3000 bambini a cui abbiamo dato un libro in omaggio e da ottobre 2021 è anche un progetto per le scuole scuole di infanzia ovviamente perché per i più piccolini come vi dicevo e per i primi due anni della primaria quindi le scuole si possono registrare gratuitamente nella piattaforma di educazione digitale e riceveranno quindi un kit che comprende anche due libri che vengono messi a disposizione della classe Tarabaralla racconta un po' il significato del valore delle cose importanti del risparmio vi lascio approfondire poi le varie tematiche all'interno del nostro sito perché sul sito di Biper Banca voi trovate sul sito biper.it voi trovate tutto quello che la banca fa e come è possibile parteciparvi per tutte le scuole di ogni ordine e grado e anche quello che viene fatto per gli adulti un altro invece per le scuole primarie abbiamo il progetto grande è un progetto che è la sua sesta edizione quindi ha già permesso di lavorare sulle tematiche dell'educazione finanziaria e del risparmio più di 8.000 classi in questi sei anni e abbiamo incontrato più di 130.000 bambini è un praticamente previa iscrizione della scuola viene mandato alla scuola un kit che comprende una guida per l'insegnante un manuale per l'utilizzo ovviamente che supporta l'insegnante nella realizzazione del progetto e anche del percorso formativo previsto poi c'è un libro interattivo per ogni bambino una brochure per i genitori comprende inoltre visto che viene richiesto di fare un'attività comprende anche un poster che aiuta la diciamo la spiegazione la messa a terra e il racconto del progetto che i ragazzi hanno implementato ovviamente tutto condito da un concorso che permette di premiare dieci classi tutti gli anni e vi assicuro che abbiamo visto dei prodotti veramente importanti anche perché vengono sempre richiesti progetti ricadute sociali ambientali di arricchimento del proprio territorio di appartenenza quindi è veramente la creazione di valore condiviso per i ragazzi che acquisiscono competenze ma anche per il loro territorio di appartenenza questo invece è un passo verso il futuro è il progetto che facciamo sempre dalla piattaforma di educazione digitale per le scuole secondarie di primo e secondo grado qua vedete due videate del percorso 14-18 anni 11-13 anni in questo caso è partito da settembre 2019 ci tengo a sottolineare il fatto che come Tarabaralla sono progetti inseriti nel piano strategico della banca questo significa appunto che di per banca crede fortemente sulla strategicità di questa tematica e i progetti i piani formativi affrontano tematiche legate alla finanza all'etica ma anche alla sostenibilità quindi c'è anche un percorso che affianca i temi della educazione finanziaria sempre agli SDGs cioè agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU inoltre ci sono disponibili anche due lezioni di educazione civica pronte per gli insegnanti anche qua c'è una registrazione gratuita presso educazione digitale e gli insegnanti possono quindi accedere a dei contenuti multimediali e alla guida didattica inoltre anche qua l'operatività e il lavoro dei ragazzi è finalizzato anche alla partecipazione a un concorso che si chiama un TG da sogno viene chiesto infatti ai ragazzi di creare un TG del 2038 in cui possano raccontare eventi attività che ci sono che si si realizzano in quell'anno e che hanno attinenza con quello che hanno che hanno imparato con le competenze che hanno acquisito questo proprio perché i ragazzi e futuro sono due due parole che stanno molto bene nella stessa frase ed ecco qui la collaborazione con Fedus come già anticipato da Giovanna Boggio Rubutti la nostra collaborazione con la Fondazione per l'educazione finanziaria e risparmio è attiva da molto tempo e ci vede collaborare su diversi progetti uno di questi è il PCTO che l'antica alternanza scuola lavoro oggi è il percorso per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l'orientamento in cui appunto diverse scuole in Italia vengono seguite da Biperbanca fanno richiesta di partecipazione a Fedus e vengono seguite da Biperbanca anche qua si prevede un incontro formativo e poi dopo devono realizzare un progetto che sia utile per la società e per il territorio ci tengo a sottolineare che nel 2019 una delle classi seguite da Biper ha vinto il concorso a livello nazionale ma sempre con Fedus abbiamo lavorato molto anche sul mese dell'educazione finanziaria abbiamo fatto 5 eventi in tutta Italia dall'economia comportamentale alle attività che parlano di educazione finanziaria ma attraverso il gioco dell'ego abbiamo lavorato con Taxi 1729 insomma tantissime iniziative e a cui si aggiungono anche incontri con scuole superiori e università sempre perché e qua rubo una frase di Giovanna Boggio Rubutti anche a noi piace fare insieme perché insieme è sempre meglio e più ricco grazie buonasera direi di essere tornata di aver recuperato la parola grazie grazie alle relatrici c'è una domanda di Arianna che ci chiede con quale metodologia è stata condotta della ricerca archivistica direi che Chiara faccio la parola a Chiara Polini che ti mi spesso per rispondere grazie grazie rispondo volentieri e allora di solito il nostro modus operandi è quello di partire dai documenti che possiamo definire più alti cioè quelli che sono prodotti dalla governance della banca quindi le delibere gli statuti per andare a vedere a livello alto quali sono le decisioni quali sono state le decisioni prese a seconda degli argomenti di volta in volta trattati mettendo poi a confronto quello che è stato recuperato e trovato le testimonianze trovate con un'altra parte dell'archivio che è molto interessante e importante che è quella relativa la comunicazione se dovessimo dire qual è il vero archivio del prodotto di una banca così come di un'impresa ma nel caso della banca in particolare potremmo dire che tutto quello che è la memoria degli uffici delle relazioni esterne del marketing rappresentano l'archivio del prodotto perché si ha la sensazione la prova certa di quello che è stato degli strumenti finanziari dei servizi di tutte le attività che si sono susseguite nel tempo è interessante notare come a volte documenti anche umili come una fattura possono essere molto significativi come è stato per esempio nel caso delle fatture dei salvadenai non riuscivo a trovare la testimonianza diretta della produzione dei salvadenai finché non ho trovato le fatture del 1939 che mi hanno dato la certezza che si era partiti con la produzione dei salvadenai dalla numero uno in avanti non avevo trovato testimonianze dirette anche a livello appunto di delibere sulla produzione di questi oggetti ma la conservazione di documentazione che spesso viene scartata come nel caso delle fatture invece mi ha permesso di ricostruire questo spezzone di storia del risparmio appunto e poi un altro aspetto che altri due aspetti che vorrei sottolineare sono come sia importante mettere in relazione anche la documentazione non solo uscire dall'archivio che è storico di Iperbanca mettendosi in relazione con gli altri archivi importanti sul territorio come per esempio l'archivio storico comunale per quel che riguarda la nostra attività relativa alla didattica dove per ricostruire la storia del territorio della società modenese nella seconda metà dell'Ottocento analizziamo appunto la documentazione da un punto di vista pubblico e da un punto di vista privato e quindi la relazione con altri archivi è significativa nel caso che vi ho appena mostrato per esempio l'immagine del cotonificio è stata tratta dalla biblioteca Poletti di Modena e quindi siamo riusciti a dare un'informazione che ha completato la ricostruzione fatta del periodo storico e l'ultima cosa che vorrei dire è che anche i silenzi dei documenti sono importanti anche le lacune parlano e quindi il fatto che per un lungo periodo come vi ho detto dagli anni 50 alla fine degli anni 70 la documentazione le testimonianze siano state veramente scarse i riscontri siano stati pochissimi sono comunque significativi del fatto che ci fosse nei confronti del risparmio questa consuetudine che ha permesso di vivere di rendita alla banca in un certo senso e quindi di non dover preoccuparsi più di tanto della comunicazione fino a un certo momento quando invece poi è ritornato molto importante darsi da fare per comunicare educare e riprendere contatti con la clientela e con tutte le categorie della popolazione a cui la banca si rivolge e non so se ho risposto in maniera esostiva comunque direi direi di sì Chiara ci sono altre due domande quindi Anna ci chiede buonasera a tutti avrei una domanda dove ci si può informare riguardo l'educazione finanziaria per analizzare le scelte di giovani adulti scusate per indirizzare le scelte di giovani adulti e lavoratori direi Giovanna Boggio Robutti grazie dove possono andare ma in realtà ci sono molti posti ricordo beh io ricordo per forza i nostri due siti che sono uno dedicato alla scuola alla famiglia si chiama economiascuola.it l'altro è dedicato invece alle persone adulte si chiama cura i tuoi soldi punto it sono certa che anche sul sito di Biperbanca ci sia una sezione con moltissimi materiali ma qui Giovanna Zracchi sarà sicuramente più esaustiva di me e poi naturalmente ci sono i siti istituzionali del governo quindi quellocheconta punto it Giovanna forse tu aggiungi qualcosa su Biperbanca sì aspettavo che mi si aprisse il microfono è assolutamente come dicevo prima c'è un'area dedicata sul sito biper.it nell'area perché sceglierci e in cui proprio c'è tutta l'offerta l'offerta per le scuole di ogni ordine grado e soprattutto anche nell'area delle news diamo sempre informazione di tutti gli eventi che organizziamo quindi se viene seguito il sito in maniera continuativa si trovano tutte le informazioni necessarie. sì grazie altra domanda importantissima in che termini si parla di educazione finanziaria e risparmio all'interno della Costituzione ce lo chiede Giulia vado vai vai allora come dicevamo un richiamo è quello dell'articolo 47 che non parla di educazione finanziaria in realtà però parla di diritto al risparmio di tutti i cittadini italiani poi la Costituzione parla di diritto all'educazione quindi ci inseriamo anche quella finanziaria per cui credo che i richiami principali siano questi direi che è veramente in dubbio che sia un diritto di cittadinanza quella di avere gli strumenti per capire come scegliere quindi gli agganci però mi risulta che siano quelli grazie bene se non ci sono altre domande io però ne vorrei stimolare una per Giovanna Zacchi cosa farà Biper nei prossimi anni per mantenere intatto questo grande valore che abbiamo dato fin dalle origini all'educazione finanziaria faremo continueremo a fare tanto e anzi faremo anche molto di più perché oltre a dare seguito a tutti i progetti che abbiamo raccontato stasera vogliamo ampliare le persone coinvolte nelle nostre attività di formazione informazione ed educazione sui temi dell'educazione finanziaria vogliamo aprirci al mondo dell'università vogliamo aprirci al mondo degli adulti in molti di questi progetti Feduf ci farà da accompagnamento e ci aiuterà e quindi stiamo strutturando il nuovo piano industriale ancora una volta l'educazione finanziaria sarà all'interno del piano industriale mi ripeto ma per noi è veramente strategico importante e è un modo per creare quel valore condiviso che cosa significa valore condiviso vuol dire che è un valore per la banca ma è anche un valore per la società che ci vede crescere e per i nostri clienti quindi continuiamo in questa direzione vogliamo abbiamo raggiunto anche lo scorso anno più di 100.000 ragazzi vogliamo fare sempre di più e meglio e parlare anche ad altri target non solo ai ragazzi grazie Giovanna quindi un impegno che proseguirà ancora più più forte più determinato c'è un'altra domanda di Alberto che chiede qualcosa in merito ai piani di accumulo per i giovani immagino non tanto dal punto di vista del prodotto ma del significato che può avere il piano di accumulo diciamo per un giovane ecco fin dall'inizio lo accennava prima Giovanna Bolgerobutti quando parlava un po' di previdenza che non è la stessa cosa però insomma uno sguardo al futuro anche con i piani di accumulo effettivamente lo si riesce a costruire un piccolo risparmio un pochino al mese rispondo io non so se sì allora quello che io posso dire allora noi ovviamente come fondazione non ci occupiamo proprio di prodotti quindi il nostro messaggio è proprio una linea di comportamento e il piano di accumulo è in questo senso se uno inizia a risparmiare piccole somme da giovanissimo dopo 40 anni le piccole somme saranno cresciute ad effetto dell'interesse composto e quindi diciamo che quello che noi diciamo ai giovani è proprio questo la difficoltà semmai è di far comprendere ai giovani che devono occuparsi adesso di un problema che si pone su una linea temporale talmente lontana nel tempo che loro non riescono a percepirla quindi è un cioè magari riuscissimo a parlargli di piani di accumulo loro non ce la fanno proprio a vedere il problema ed ecco perché cerchiamo delle strade sempre nuove Giovanna Zacchi ne ha citate alcune appunto grazie anche all'aiuto dei geniali divulgatori di taxi 1729 di Torino si cerca proprio di prendere delle strade secondarie come quelle dei meccanismi della nostra mente dei meccanismi con cui facciamo delle scelte che non sono razionali quindi usiamo la finanza comportamentale sono tutti tentativi per portare questo argomento difficile della pianificazione finanziaria e lontano nel tempo quindi per loro veramente difficilmente visualizzabile a un livello di comprensione che passi attraverso il divertimento la curiosità quindi tutto quello che posso dire è questo grande lavoro che dobbiamo continuare a fare c'è moltissimo da fare esatto allora io direi che se non ci sono altre domande ringrazio le nostre relatrici quindi Giovanna Poggio Rebutti direttrice di Feduf Chiara Pulini archivista e curatrice dell'archivio storico di Biperbanca che ha condotto la ricerca e Giovanna Zacchi responsabile registrati di Biperbanca grazie anche da parte mia e ci vediamo presto con il nuovo quaderno d'archivi appena pronto vero Chiara grazie a tutti grazie a tutti grazie per la parte grazie a tutti quanti buonasera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti